Seduta pomeridiana al Merirosi per la Salernitana che continua la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato all'Arena Garibaldi contro il Pisa dell'ex Gattuso. Una gara decisamente difficile sotto tutti i punti di vista anche perché i toscani, che rispecchiano in pieno il carattere del loro tecnico, sono una squadra scorbutica e che non molla mai. Non sarà facile superare questo scoglio anche se la Salernitana arriva a questo match in uno stato di forma eccezionale con un ruolino di marcia da zona promozione. Dieci punti in quattro gare frutto di un pareggio e tre vittorie e classifica che finalmente consente di dormire sogni tranquilli. La salvezza è ormai ad un passo e sembra un obiettivo ampiamente alla portata di questa squadra, visto che mancano ben dieci gare al termine della stagione regolare. E' chiaro che, una volta certificato questo traguardo, si guarderà oltre puntando dritti ad un posto nei play-off. Evitando voli pindarici e concentrandosi sulla prossima gara, Bolini avrà nuovamente a disposizione Zito che ha scontato il turno di squalifica, chi invece sembra dover prolungare la sua assenza è il centrocampista Massimiliano Busellato. L'ex cittadella doveva rientrare secondo la prima diagnosi fornita dalla società Granata dopo due settimane, ma l'assenza dai campi di gioco ormai si protrae già da tre settimane. Per ora nulla trapella dall'infermeria Granata, ma la sensazione è che il centrocampista non sarà disponibile ancora per un bel po' di tempo. Una perdita importante quindi per Bolini, che ha sempre considerato il trottolino Granata una pedina inamovibile della mediana.